Pensiero di Padre Pio di oggi Vivi senza preoccuparti dell'opinione degli altri E' il miglior modo per trovare la pace interiore San Pio da Pietrelcina Prega per noi e per il mondo intero Buona e santa giornata a tutti voi fratelli e sorelle Siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio Pace e bene Ave Maria